Ci sono uomini a cui regalerei una rosa, sì, una rosa, perché quell'uomo la tratterebbe con amore, dolcezza e tanta tenerezza. Quel piccolo bocciolo nelle mani di quell'uomo sboccerebbe e profumerebbe di libertà e dignità. Ci sono uomini che sanno ascoltare i tuoi silenzi, non c'è bisogno di parlare, non ti devi giustificare, non ti devi mortificare. Asciugherà con un bacio ogni lacrima versata. Ci sono uomini che curano tutte le tue ferite, ti risalano le ali e ti spingono a volare. A quegli uomini regalerei una rosa, perché? Perché non ti farebbero mai morire dentro, non ti farebbero ralentare il cuore, non ti toglierebbero mai il sorriso, non ti ucciderebbero mille volte, ti farebbero rinascere e sentirti viva sempre. Ti prego uomo, accetta queste rose. Non è segno di debolezza, ma semplicemente un dono al tuo coraggio e alla tua sensibilità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.